La mia passione è la vostra, il nostro colore è uno solo, Granata. Noi siamo il tifo, l'amore è la storia, noi siamo il toro. Ritroviamoci insieme tutti i martedì alle 21 Toro Amore Mio, in diretta con le vostre telefonate, le vostre mail e tanti ospiti. E come al solito non ho avuto bisogno del gobbo. Il toro è grande, fa premarlo è grande, fa premarlo è grande.